che è il cuore della nostra città, perché noi vogliamo rappresentare il benvenuto da parte della città l'importanza di questo momento per un ritorno, per un arrivo di una importantissima compagnia come Ryanair noi vogliamo rappresentare il fatto che per la nostra città questo sia veramente un momento fondamentale e vorremmo che per Ryanair, per tutti quelli che vorranno lavorare con il nostro aeroporto io ti conosco perché è uno dei fiori all'occhiello della nostra città ci sono le condizioni per stare a sentire a casa ecco, questo è il messaggio, è la volontà che abbiamo dopo anni difficilissimi, io non mi stancherò mai di ringraziare la compagnia, l'FA, Sigestrini, San Salini e tutti i soci per la forza e il coraggio che abbiamo avuto in questo difficilissimo momento e noi siamo qui, siamo entusiasti di questa giornata credo che questo sia veramente una grande ripartenza non solo per la nostra città ma per il sistema aeroportuale nazionale e con il ritorno del turistico, il ritorno della voglia di girare noi siamo pronti ad offrire un bellissimo aeroporto, un aeroporto sicuro tranquillo, dove si potranno sviluppare tanti vecchi agenti quindi grazie per questa opportunità, grazie di aver certo anche questo location che è anche significativo dal punto di vista del messaggio grazie, grazie, buona giornata